Radio Radicale, un nuovo appuntamento con le parole e le cose, e mai come la presentazione di questo libro che stiamo per iniziare è in tema con il titolo di questa trasmissione, abbiamo con noi Roberto Saviano e il suo Gridalo, edito da Bonpiani, ben trovato Roberto. Eccomi, un abbraccio. Allora Roberto, Gridalo è un libro pieno di storie e pieno di storia, un libro che è una sorta di manuale contro il pensiero unico, manuale per la sovversione del contemporaneo, ci sono storie di uomini e di donne che hanno in qualche modo gridato a squarciagolla le loro ragioni, spesso non ascoltati dalla società che avevano intorno, ma fondamentalmente sono arrivati poi al termine della loro missione. Ci sono tante grida in questo momento storico, una ad esempio straziante, l'hai raccontata proprio in queste ore sulle tue pagine social, riguarda una giovane madre che urla nel Mediterraneo alla ricerca di suo figlio, Josef, di pochi mesi, che muore in mare. Ecco, ci sono urla e grida differenti e allora come nasce e come arriva nelle librerie questo gridalo? Quanto c'è del tuo urlo da Gomorra in poi all'interno di queste pagine? Ho messo dentro tutto quanto mi ha fatto andare avanti in questi anni, tutta la mia rabbia, ma persino il mio rancore, il mio dolore, la sofferenza e anche la voglia di cambiamento, di ricerca di verità e quindi di felicità. Per intenderci, gridare e affermare tutto ciò che non possiamo più tenere dentro. So benissimo che il grido è ambiguo, perché gridano anche i copulisti, perché grida anche il violento, ma io con questo grido voglio in qualche modo sperare che il grido del rancore sia sostituito dal grido della nascita, dal grido dell'orgasmo, dal grido del riconoscimento e quindi invito a non negoziare più sui valori fondamentali, a non immaginarsi sempre di dover accettare tutto e dover scegliere il male minore. Basta scegliere il male minore e iniziare finalmente a cercare la possibilità di scegliere un bene o di costruirlo. Per fare questo chiamo a rassegna tutta una serie di figure in cui mi sono riconosciuto, in cui non mi riconosco, quindi metto anche dentro non solo l'ossigeno, ma anche l'anidride carbonica, che comunque è necessaria al respiro. E quindi cerco dai Pazzi, a Pasolini, a Giordano Bruno, a Goebbels, di raccontare anche il prezzo che si paga quando si sceglie. Ecco, appunto, questo libro inizia con una mappa, parlo a te come se tu fossi un altro me, sei tu ora che frequenti liceo di Azzacca Serta, lo stesso che frequentavo io, sei tu ora che stai cercando le stesse risposte che allora cercavo io. Ecco, cambia in qualche modo la mappa, la geografia, cambia anche la sfera anagrafica, però queste domande, queste storie che sono contenute all'interno di questo libro sono antiche come l'uomo, sono in qualche modo delle domande e delle considerazioni quasi archetipe all'interno del nostro stare all'interno della società. E allora Roberto, diciamo, da quel ragazzino che entrava all'interno di Díaz a Caserta, ad oggi, diciamo, molto probabilmente è aumentata la rabbia, alle volte anche paradossalmente il senso di impotenza, perché poi più vai avanti nella vita e più ti guardi indietro e più pensi che in fin dei conti c'è sempre una fregatura in sottofondo, però strutturalmente sei ancora qui a gridarlo, a dirlo, quindi poi alla fine, diciamo, c'è ancora una comunanza tra quel ragazzino della Díaz e, diciamo, il Roberto Saviano di oggi che chiaramente, insomma, ha, come ci hai raccontato, un'esistenza mai facile e, diciamo, mai semplice e fuori da ogni logica che uno possa immaginare. Sì, io ho cercato, come tutti, quando inciampiamo in una vecchia foto del passato di capire quanto è rimasto di quel ragazzo, insomma, l'artifizio narrativo di gridalo è proprio quello di provare a incontrare quel ragazzo. Io non ce la farò, quindi faccio già spoiler, non riesco ad avvicinarlo e a parlargli. Mi lascio andare, nel senso che lascio che il Roberto pieno di capelli è con una visione che poi verrà completamente, in qualche modo, compromessa del mondo, però riconosco, riconosco in lui che quel desiderio di conoscenza e quella voglia di non compromettersi è rimasta inattaccata. Per questo, partendo da lì, mi rivolgo poi a sedicenne di oggi, ma in realtà anche a un novantenne di oggi, provando a suggerirli che quel senso di solitudine non è reale. Cioè, mi piacerebbe anche chi ci sta ascoltando che si sente colmo di rabbia, che non ne vuoi più questo mondo di merda, che in qualche modo è stufo dell'immaginare che tutto debba essere sempre e soltanto un'accettazione, e va bene, le cose vanno così, e non può che andare così, e questo senso di una riguadezza perenne. Insomma, vorrei dire al lettore, alla lettrice, vorrei dire, non si sono. Questa dannata rabbia la stiamo provando in molti, e questa rabbia può essere gridata nel momento in cui conosci, scegli e poni il tuo orizzonte in maniera chiara di trasformazione. Questo grido fa la differenza. Reinaldo Arenas, che è uscito in Gridalo, era un intellettuale omosessuale per questo incarcerato da Castro, dice, grido quindi sono. Lui voleva dire grido quello che sono, grido me stesso, e questo mi pone in una dimensione nuova di liberazione, che non è sfogo. Quindi al ragazzo, questo è un libro profondamente rivolto ai ragazzi, cerco di dire, eccoti una mappa, tra l'altro c'è proprio graficamente dentro il libro una mappa, e dico, eccoti una mappa che non vuole invitarti alla prudenza, anzi, semmai alla temerarietà a rischiare. Non andare in posti già conosciuti, perché se vai in posti già esplorati significa che qualcun altro ti ci porta, e sappi che questa mappa non ti proteggerà dalla sofferenza, ti perderai, inciamperai, però probabilmente tutto questo riuscirai a farlo con consapevolezza. Almeno ci provo a costruire, insomma, un percorso in cui poter non diventare degli stronzi, perché poi questo è il sottotitolo del libro, che non ho avuto il coraggio di inserire in copertina, cioè come non diventare degli stronzi. Ecco, diventare degli stronzi strutturalmente è sempre una fatica immane, perché principalmente è una lotta contro se stessi, diciamo, è un po' come quella frase che riguarda un altro contesto, teologico, il Cardinal Martini dice in verità, la vita di una persona è solo una lotta tra il credente e il non credente. Forse, diciamo, la nostra vita è una lotta interiore tra l'essere stronzi e non l'essere stronzi, quindi ha risultati non sempre, diciamo, a perni in modo favorevoli. Il libro, voglio ricordarlo, è anche impreziosito di illustrazioni di un grande illustratore, Alessandro Baronciani, che in qualche modo dà volto alle storie e ai personaggi. E, diciamo, questo è un libro, come ho detto in apertura, Roberto, che dà anche delle chiavi di interpretazione sul presente, perché ovviamente le storie spesso, diciamo, guardano al passato a figure storiche importanti, c'è Giordano Bruno, c'è Schmidt, ce ne sono veramente tantissimi, Marti Luterchini, insomma, c'è veramente il mondo, quel mondo, quell'immaginario che poi alla fine possiamo dire che i nostri, le nostre figure, le nostre ombre giovanini in qualche modo si sono nutriti. Noi, molto probabilmente, ognuno nel suo piccolo fa questo lavoro, cerca un po' di cambiare il mondo, forse perché una volta in un letto di una camera in cui si stava da soli si è incontrato uno di questi personaggi e ci ha parlato e in qualche modo ci ha anche un po' attraviato, perché forse alla fine, diciamo, uno nella vita avrebbe potuto avere un'esistenza più tranquilla. Però ecco, questo è anche un inno all'irrequitezza a livello strutturale, cioè è un inno fondamentalmente al dire ai ragazzi, ma anche non ai ragazzi, appunto anche al novantenne, che non solo si è utili, sia indispensabili, ma forse bisogna essere irrequieti. In questa emergenza Covid c'è questa assimilazione, no? Tra i vecchi e i giovani, nel senso i giovani sono inutili perché vengono tenuti a casa a fare la didattica a distanza nelle scuole e i vecchi sono rivenuti inutili, come dice Toti, perché non partecipano più allo sforzo produttivo. Ecco, poi c'è il mondo di mezzo, insomma non c'è più Massimo Bordino, quindi non mi riprenderebbe per l'impropria metafora. Però il mondo di mezzo è composto da questa selva di adulti, poi che un po' girano alla ricerca sempre di parole nuove, di concetti antichi. Ecco, e questo libro forse ci dà anche uno strumento per agganciarli questi mondi, per cercare, insomma, attraverso altre storie di trovare una determinazione molto pratica. E per te com'è stato scriverlo? Perché, diciamo, il libro è anche abbastanza imponente, ma è soprattutto un libro in cui ci sono tanti livelli, c'è un'apertura, c'è una sofferenza, c'è un distacco su alcune storie, anche un contrasto ideale all'interno di quello che racconti. Insomma, ecco, questo fa piacere anche raccontarlo su Radio Radicale, non è un libro, diciamo, fatto di storie omogenee, insomma, ci sono tanti eretici qui dentro. Io in realtà, e proprio mi fa piacere questa descrizione che hai fatto, perché si tratta di eretici e si tratta di persone con vizi, contraddizioni, errori. Quando ho scritto questo testo la bussola dentro questa mappa era proprio questa, cioè volevo mostrare come quello che stiamo vivendo è un paradosso incredibile. Per cui se tu ti batti per trasformare questo dannato mondo per i diritti, per dimostrare autorevolezza devi avere la vita di un mistico, quindi una sessualità governata, non devi fare errori, non devi avere problemi di nessun tipo, non devi avere contraddizioni. Mentre invece, al contrario, se sei uno di quelli che crede che tutti gli esseri umani sono uguali, c'è altri che cercano piacere cash e potere e quindi in qualche modo ti poni anche politicamente nella posizione di credere che si può solo organizzare la vita, insomma, si può solo cercare di guadagnare meglio, di tagliuzzare qua, spese di qua, spese di là e quindi politicamente ti poni in questa posizione, ti viene permesso tutto. Se invece vuoi cambiare le cose non ti viene perdonato nulla. Ma qui non si tratta di dover perdonare. Qui si tratta che ormai il puritanesimo assurdo, anzi il neopuritanesimo che mostra che una persona, diciamo, facciamo l'esempio Clinton-Trump, nessuno dimentica Monica Levis, che è la vicenda privatissima che riguardava il sesso del presidente, che era una vicenda privata, che non si trattava di molestie, e quello che è successo con Trump. Trump al giornalista famoso negli Stati Uniti, Woodward, per il Watergate, dichiara, confessa, ammette, ho celato al popolo americano l'esistenza della pandemia, perché non volevo preoccuparli. Cioè migliaia di morti perché non volevi preoccupare. E questo non è stato elemento di dibattito. Lo divenne invece la vicenda Levischi. E questo la dice lunga. Sostanzialmente se vuoi cambiare il mondo sei fottuto, perché qualunque cosa ti mostrerà, per come oggi il dibattito pubblico, ti mostrerà in fallacia. Cioè quindi tu, che ne so, tradisci, sarai considerato un vile fedifrago che non può permettersi di combattere il bene della società, se tu hai problemi con le tasse sarai uno schifoso evasore. Qualsiasi contraddizione che non è un reato diventerà un problema. Dall'altra parte, se invece ti poni in una situazione per cui, ma no, siamo tutti uguali, ma in questo schifo figurati, la politica serve solo a organizzare, a far stare un po' meglio la gente, ma figurati, no, nel senso che siamo tutti, che vogliamo la stessa cosa, ma figurati. Se sei stessa in questa posizione, invece ti è permesso tutto. Infatti basta vedere che Trump è stato perdonato a qualsiasi cosa, ai populisti viene perdonato a qualsiasi cosa. Dall'altra parte, ho visto adesso che il responsabile dell'ONG Open Arms è stato delegittimato perché paga 2000 euro al mese di mutuo, e questa roba viene, così viene descritto come un satrapo che si diverte a salvare i migranti nel Mediterraneo. Incredibile, incredibile. E questa cosa io provo con gridalo a disarticolarla. Cioè provo con gridalo a dire che l'unica cosa che abbiamo per difenderci da questa merda è non crederci, è non credere a questa versione, è smontarla tutte le volte che la incontriamo. E quindi io mi sono messo sulla via di scrittura di questo libro, proprio partendo da questo noncio, cioè dalla possibilità di comprendere come liberare da questo continuo ricapto il racconto e la vita di chi sceglie da che parte stare. In questo riferimento automatico si fa a Marco Pannella, la sua pubblica dichiarazione di essere tutto quanto quello che gli altri pensavano, misere mani avanti lì dove c'era anche il sospetto che un investigatore privato lo stesse seguendo per capire le sue abitudini. Dichiarò tutto prima, di modo che non vi fosse scandalo. Forse ecco, diciamo anche qui, la radice del cosiddetto scandalo è sempre una macchina che va macerando sempre le notizie in modo veloce. Qui si capisce anche all'interno di questo libro una sorta di storia un po' dello scandalo, cioè dell'idea fondamentalmente che abbiamo e che vediamo. Cioè un tempo, uno scandalo potrebbe durare anche per settimane, per mesi, per anni. Adesso rimane l'eco di quello scandalo, no? Tu sei, diciamo in qualche modo, protagonista di una delle fake news immobiliari più importanti della storia dell'umanità, insomma, il tuo famoso attico a Manhattan che, diciamo, ha creato, diciamo, anche proprio un mercato, una bolla immobiliare a New York, insomma, sappiamo che centinaia di migliaia di persone sono andate a New York a vivere per comprarsi un attico come se. Scherzi a parte, però, diciamo, quella fake news in qualche modo è diventata ancora oggi, basta andare sulla tua pagina, insomma, vedere di che parli, parli dell'attico a Manhattan. Però, dall'altra parte, diciamo, si è anche un po' accorciata la forbice, cioè, se di quella cosa dieci anni fa se ne sarebbe parlato così come se ne è parlato per tre mesi sui giornali, oggi dura più o meno una settimana uno scandalo e poi si procede a una nuova indignazione. Ecco, questo è anche un po' il tema. Cioè, chiaramente, ciò che viene fuori da un'inchiesta, ciò che viene fuori da un lavoro investigativo fatto con la carta e con la penna, ovviamente serve alla società. Quello che non serve, forse, è proprio una sorta di relativizzazione della notizia, cioè, se tutto è notizia, niente è notizia. E quindi siamo anche, per esempio, rispetto al Covid, invasi da informazioni, infodemia e via dicendo, però poi, alla fine, diciamo, ad oggi, novembre, fine novembre, metà novembre, siamo come stavamo, diciamo, in alcuni aspetti su febbraio-marzo. Insomma, ci sono ancora tanti nodi risolti, tante cose che non si comprendono. Ecco, diciamo, questo è forse un difetto non solo della categoria, ma è un difetto della categoria degli scrittori intellettuali, dei giornalisti, che si salda poi con una certa comodità della politica, insomma. Se tutto fa scandalo, niente è scandalo. Insomma, avrei quella famosa adagio, ogni settimana vai in onda report, ma poi nulla cambia il lunedì mattina, no? Ecco, tutto quanto questo, in qualche modo, crea però un disastro nel rapporto tra cittadini e cosa pubblica, tra anche giovani e cosa pubblica, perché questo libro, andando a parlare soprattutto a quella fascia generazionale informazione, lo vedo anche come un invito, in qualche modo, ad innamorarsi della cosa pubblica, ad innamorarsi della politica, della lotta, della pugna, della battaglia, perché spesso poi il risultato è proprio il disamoramento. Ecco, allora, tu come riesci ancora ad innamorarti di tutto quanto questo macello intorno che ti succede e in qualche modo, diciamo, questi momenti alti, quanto vanno in prevalenza con quelli bassi e soprattutto come consigliare di non far prendere l'onda lunga dello scoramento, questo è anche un po' il tema, o anche quello dei falsi profeti, perché poi all'interno di questo libro, diciamo, tutte le personalità, descritte anche in modo, diciamo, distante da un paradigma ideale che ti è proprio, però hanno comunque rappresentato un qualcosa di centrale all'interno della storia. Allora, in realtà nel libro l'ho confesso, cioè, dico, io non ho più speranza vera che le cose possano cambiare, diciamo, ma com'è possibile? Questo libro è un grido di cambiamento, trasformazione? Beh, io dico, la mia speranza rimane nel tentativo che il lettore prenda ancora voglia di approfondire, cercare, darsi tempo, capire, cambiare idea. Quella è l'ultima speranza, la conoscenza, che la conoscenza possa trasformare. E l'ultima mia speranza, non so come dire, la speranza non l'ho mai considerata un atto emotivo, cioè, quella roba lì che somiglia all'otto, cioè, spero che la manina estraghi il numero tre. Quella speranza lì non frega nulla, è insopportabile, insomma. Invece la speranza, cioè, quando diciamo lo spero, è un investimento sulla conoscenza, cioè, è un investimento su, approfondisco, capisco, e quindi in qualche modo spero che possa andare in quella direzione. Ecco, io spero che possa la lettura ancora essere una forma di, uno strumento di trasformazione, ecco. E' l'ultimo atto attivo che abbiamo, in un mondo di atti passivi, mi spiego meglio, ascoltare musica, vedere un film, sono atti creativi, è chiaro, ti danno emozione, ma sono tutti atti passivi. Leggere, e da qui anche la fatica del leggere, rispetto invece alla semplicità di guardare un film, leggere è un atto attivo. Nella tua testa crei ciò che stai leggendo. Lo scrittore è soltanto il 50% della parte. E lì c'è la mia speranza. Un po' maniacale, però credere che nel momento in cui c'è un lettore, c'è qualcuno che cerca. Chi cerca, prima o poi trova. Roberto, siamo quasi in conclusione. Facciamo un gioco. Io ho trovato una poesia, insomma, che è di Bertolt Brecht, che si intitola Coloro che esitano. E penso, insomma, vediamo, ne declamo qualche passaggio, anzi la dico tutta, tanto è breve. E vediamo, insomma, se ti dà qualche, diciamo, qualche suggestione per chiudere questo nostro ragionamento. Brecht scrive, tu dici, è un male per noi. Il buio cresce, le forze stanno diminuendo dopo aver lavorato per molti anni. Ora siamo in una condizione più difficile di quando era appena iniziato. Il nemico è davanti a noi, più potente che mai. La sua forma sembra essere cresciuta, ha detto, un'apparenza invincibile. E abbiamo fatto degli errori, non puoi più mentire. Siamo sempre meno. Le nostre vite creano confusione. Una parte delle nostre parole il nemico le ha ribaltate finché non ci ha resi riconoscibili. Cosa c'è di sbagliato in ciò che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo sopravvissuti, rifiutati e lontani dalla corrente. Resteremo indietro senza più capire più di nessuno e nessuno inclusi? O dobbiamo sperare in un colpo di fortuna? È quello che chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre alla tua. Ecco, questa posizione di Brecht in qualche modo a me, diciamo, ha significato una sorta di somma finale al momento che ho finito di leggere il libro. Perché c'è un po' tutto quanto, insomma, è un manifesto poetico anche questo gridalo e c'è forse un po' della stessa irreguitezza di Bertolt Brecht, ma al tempo stesso della stessa capacità non tanto di non dare risposte, ma forse di suggerire una via, una strada. E forse gridalo è anche quel tentativo riuscito di trovare una strada, di illuminare una strada, un po' come se fosse un sentiero di notte e di dare degli strumenti, forse un solo megafono per riuscire a percorrerla. Allora, ecco, diciamo, quando nasce un libro c'è sempre un percorso che inizia e che non si arresta. Ogni tuo libro ti ha portato, insieme alla tua comunità di lettori, ad un punto. Gomorra, diciamo, è stato quello che in qualche modo ha dato una cinquina micidiale al nostro paese, su alcuni aspetti e l'eco di quello schiaffo ancora continuo, ancora macera, sia per te che per il paese fondamentalmente. I libri successivi hanno indirizzato su tanti aspetti che non avevamo mai considerato, dalle narcomafie, dal narcotraffico, passando appunto anche qui per la paranza dei bambini. Insomma, per tutto quanto quello che ci hai raccontato, si è arrivati ad un punto, ecco. Però diciamo che questo gridalo sembra non avere un punto di arrivo, perché l'esercizio potrebbe essere infinito. È proprio così, è un esercizio infinito. Il verso finale, cioè non aspettarti nessuna risposta oltre la tua, il verso finale di Brecht, è proprio la, diciamo, la morale di questo testo, di Gridalo. Trova la tua risposta? Trova il senso, io il senso l'ho trovato nella lotta, cioè nella possibilità di non diventare cinici. Io lo sono, completamente, sono un ciniciaccio, detesto esserlo, ma spesso mi arrendo all'orrido della vita, tutto ciò che ci appare, come dire, verso di noi, critico, violento, lo accogliamo come autentico. Se io ti mando a fare in culo in questo momento, tu questa cosa la prendi, cioè te l'aspetti, ma non da me magari te l'aspetti, però l'accogli. Se io ti faccio un complimento e senti subito la diffide, perché lo sta facendo? Perché mi vuole sedurne? Perché mi sta compiacendo? Cioè noi siamo disposti ormai ad accogliere il male, benissimo, a riconoscerlo quantomeno. Ma mai il bene. Il bene ci fa diffidenza, non ci crediamo, è sempre qualcosa di scivoloso. Oppure pensiamo che anche un gesto di bene, nel momento in cui è fatto da una persona piena di contraddizioni, che fa degli errori come tutti, allora è un bene che vale meno. E' come se un gesto di bene possa fartelo soltanto il Dalai Lama, una figura che è, diciamo, coerentemente, perennemente sempre volta al bene. Spesso che il Dalai Lama sia così. La risposta che dobbiamo darci è proprio questa, stare nella complessità del mondo, poter capire come starci, poter capire che da nazione il bene esiste e che è possibile, e capire anche che le strade per raggiungerlo e per conoscere non arrivano soltanto dalla nostra bolla. Io nel libro, appunto, Karl Schmitt come guida, Karl Schmitt è un pensatore nazista, cioè che aderì al nazismo, probabilmente lo studioso di scienze politiche che in assoluto mi è stato più utile e più ammino nei testi, è quando Karl Schmitt ti racconta che non è possibile attraverso lo strumento democratico e della dialettica a convincere un paese, ma solo una piccola parte del paese, è che è solo lo stato di eccezione che permette a un capo di diventare capo di tutti. E lo stato di eccezione si crea con un nemico, quindi con un grande allarme, perché di fronte al pericolo anche chi non è dalla tua, per sentirsi protetto, si mette dalla tua, sta parlando Karl Schmitt ai nostri giorni praticamente, solo lo stato di eccezione è il vero potere. Quando tu racconti, quando tu accogli, conosci questo, wow, hai proprio diottrie, ti permette proprio di difenderti o quantomeno di arrivare a una risposta. Cosa vuoi essere? E quello che vuoi essere, gridalo. Allora, gridalo in libreria, edito da Bonpiani, è un bel libro, non pensarne male, Roberto. Grazie davvero ancora per essere stato con noi e buon proseguimento, e buon proseguimento di serata a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché continuano le trasmissioni su Radio Radicale.